Nel 1976, considerando che la società è nata nel 75, praticamente sono arrivato un anno dopo che è stata creata da un gruppo di pionieri a cui mi sono aggregato anch'io. È uno sport minore perciò riuscire a vivere e ottenere quello che abbiamo adesso non è una cosa facile. Si è passato un periodo dove tutte le categorie erano piene, poi si è passato un periodo di crisi ora stiamo riempiendo queste categorie. Adesso in questo momento abbiamo un gruppo di pre-agonistica che lo vorremmo sempre grande, perché sono i bambini piccoli che rappresentano il futuro ma è un investimento a lungo termine. Abbiamo il settore femminile con le loro varie squadre. Questo è un sport che è tanto importante per i bambini perché ti fa capire tanta regola del baseball che non sono tanto difficili. Non è un gioco che è aggressivo, ti fa trovare tanta amicizia, c'è un divertimento, non solo per la vincita, ma anche per il gioco di della squadra che c'è con tutti i ragazzi. Grazie a tutti.